Allora, Massimiliano Gallo, questa volta siamo venuti direttamente in Camerino, qui al Manzoni di Milano, dove stai portando amanti di Ivan Cotrano. La prima domanda è che effetto ti fa il teatro dopo tanta televisione e cinema? È sempre il primo amore? Assolutamente sì, non solo il primo amore, ma ho constatato che ho bisogno del teatro a livello fisico, nel senso che il set, che è un'esperienza incredibile anche a livello di profondità psicologica, per il lavoro che devi fare di concentrazione, però comunque rimane qualcosa di molto freddo, molto asettico, l'opera che hai messo su la vedi soltanto poi alla fine del montato e del girato, quindi quell'emozione la provi dopo. il teatro mi serve proprio per ricaricarmi fisicamente, cioè quando pure c'ho un malanno, un mal di testa, un mal di collo e cose, con l'adrenalina va tutto via, quindi c'ho bisogno proprio di incontrare il pubblico. ho verificato, poi è una cosa che è uscita fuori ancora di più dopo la pandemia, che comunque anche le persone, il pubblico aveva bisogno di ritornare in sala, c'è una grande attenzione verso il teatro, che secondo me è il luogo poi più moderno che c'è, perché non ha bisogno di ammodernamenti, mentre il cinema ha bisogno di continui ammodernamenti, 4K, 8K, Dolby e robe varie, noi abbiamo una condizione in cui tu puoi ancora andare in scena con una sedia e creare comunque una magia, il pubblico ha bisogno di ritrovarsi, non c'è più un luogo di aggregazione, e credo che il teatro per questo sia un luogo sacro, perché è l'unico posto in cui ancora ti incontri. Cosa ti ha tratto la prima volta che hai letto Amanti di Volco Trano, che hai già portato quel manzoni di Milano l'anno scorso, era andato... Sì, era stato campione di incassi, quindi siamo tornati questa volta fuori abbonamento in una settimana complicata come quella di San Rimo, però insomma sta andando benissimo pure adesso, no, e c'era proprio la volontà di fare qualcosa con Ivan, quindi era da anni che io dicevo ad Ivan, scrivi qualcosa per il teatro, Ivan dice no, non me la sento, non ho mai scritto per il teatro, poi dopo ho creato un mostro, perché Ivan adesso da quando ha provato pure lui l'adrenalina del pubblico, perché comunque sentire sulle tue battute quello che hai scritto, sentire le risate, l'apprezzamento del pubblico e poi venire in scena dopo per i saluti è una cosa che non si può descrivere per uno che non l'ha mai vissuta, per cui scherzando Ivan dice hai creato un mostro perché adesso voglio fare sempre teatro. No, è un testo che diciamo detto così in due parole può sembrare banale perché sono due che si incontrano perché vanno dalla stessa psicologa e poi diventano amanti, invece poi chiaramente con la penna di Ivan tutto questo diventa molto di più e quindi si scava tra il maschile e il femminile, due mondi completamente opposti e poi chiaramente si ride molto ma ci si emoziona molto. Senti, ma se domani venisse uno e ti obbligasse teatro, cinema o tv, scegli ne uno? Non posso scegliere perché comunque non, il teatro io faccio, in questo momento faccio sacrifici incredibili per continuare a fare i turni perché comunque non ho il tempo per farlo, non ho chiaramente proprio i giorni per ritagliarmi il teatro, però con tutto questo forzo tutti, forzo il mio agente, forzo tutti e quindi io ho 3-4 mesi di teatro all'anno, pure se fatti due mesi una volta e poi due mesi un'altra, ma comunque 3-4 me li dovete concedere. Senti, dall'avventura televisiva, dalle molte avventure televisive invece cosa ti sei portato via, a parte la notorietà che è triplicata di fatto, no? Sì, la notorietà era una cosa a cui non sei preparato, nel senso che quella televisiva è un qualcosa che non si può spiegare perché comunque la tv ha il potere di entrare nelle case, il film, soprattutto adesso che le sale sono meno frequentate, il film è un po' come andare a teatro, cioè scegli di andare a vedere quell'attore, quel regista, quel film e quindi è comunque un pubblico di nicchia, la televisione è qualcosa di indescrivibile il potere che ha, quindi se vado in torne a Bergamo, a Canicati, hanno comunque visto tutti la televisione, ti riconoscono tutti per strada e chiaramente devi gestire questa roba che non è sempre facile da gestire e quindi per me che ho fatto un cammino lungo e quindi c'ho forse le spalle più forti per assorbire tutta sta roba, per me è più gestibile, però mi rendo conto, per esempio, ieri vedevo i ragazzi in mare fuori, mi rendo conto che per loro, insomma, ragazzi di vent'anni, avere 100 persone, 200 persone che ti aspettano fuori non è semplice da gestire, poi dipende molto da come sei caratterialmente, io cerco sempre di accontentare tutti, essere carino con tutti, però chiaramente poi a volte ti rendi conto che stai mangiando, ti stanno riprendendo mentre mangi, quindi ti senti un po' violentato, tra virgolette, però insomma è una cosa molto bella, una cosa che mi è successa proprio a Bergamo, delle ragazze che mi aspettarono fuori al teatro dissero, ti volevamo ringraziare perché ci hai fatto compagnia per tutta la pandemia, cioè tu sei stato a casa loro, non lo sapevi, ma sei stato a casa loro per tutta la pandemia, è una cosa bellissima, però che ti dà pure il senso di responsabilità rispetto a quello che fai, poi fortunatamente erano tutti prodotti di enorme successo, i Matataranni, Bastanti Pizzo Falcone, lo stesso avvocato malinconico, che adesso ho finito di girare la seconda e andrà in onda ad ottobre, poi c'è stato quelle bellissime, ci sono state quelle bellissime esperienze di Eduard, quindi prima Filomena Marturano e poi Napoli Milionari. Esatto, sai che è il tuo mito oggi attoriale? C'hai sempre i grandi miti di ieri? Sempre di ieri è sempre stato De Niro, per me quello che continua su quella scia con la stessa forza e con la possibilità di splittare da commedia a tragedia è solo Di Capri, poi non ce n'è per nessuno, poi ci sono tutti attori enormi, però diciamo Di Capri secondo me è quello che può fare sia la commedia che il film drammatico e non è la stessa cosa, nel senso il film drammatico lo puoi fare, la commedia è un po' più complicata. Senti, per chiudere, in cima le tue preferenze, i film del cuore, c'hai sempre c'era una volta in America di Sergio Leone? Sempre, quello non cambia. Ah beh, poi è una giornata particolare, insomma c'è tutto il cinema italiano, quello che ancora insegnano nelle università nel mondo, è quello che ha fatto grande il cinema, il nostro cinema. No, di bello c'è che secondo me c'è stato un ritorno anche alla sala cinematografica, quello è bello, soprattutto forse è importante per i produttori pensare, fermarsi un attimo a pensare che forse tutte queste operazioni a tavolino non pagano, ma invece paga molto la passione di chi fa le cose, anche il credito che hanno alcuni attori rispetto al pubblico come per i registi, per cui penso a Paola Cortellisi, penso a una serie di operazioni che hanno fatto bene al cinema italiano.